in tantissimi anni adesso qui passiamo qua ce ne vuole uno per uno riprenderlo perché guardi questo qua è il principale quale questo qui ma di che anno è però questo che devo avere la batteria porta perché gli spara dentro 350 kilowatt accidenti ma scusi ma di che anno è sì 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 infatti io ho detto ma distributore certo adesso ma lei e ne ha già messo un centinaio sulle autostrade di questi solo chi non deve avere la batteria posto certo questi invece sono tutti manuale fino a 935 perché poi partono anche con dei colori ha una raccolta incredibile incredibile come dicevo prima erano tutti gli altri guardi quella fotografia che ho fatto in armenia neanche tanti anni fa nel 2009 la ci sono pochi punti di riformimento e distributore gli attaccano all'autobotte poi ogni tanto l'autobotte si ferma e chi ha bisogno fa il pieno ah ecco quelli sopra invece sono i primi cari cisterno ma tirati ancora dai cavalli poi cominciano i camion fino ad arrivare a quegli australiani che hanno tre rimorchi un discorso globale è incredibile quindi è ma lei è andato in tutto il mondo a raccogliere qui eh sì più o meno più o meno sì guarda qua il logo della bp la british petrolio è quello lì quello originale con lo scudo ma durante il fascismo erano vietati i vocaboli stranieri allora avevano copiato la b e la p uguale no? ma ha messo nel triangolo con le virgolette invece con lo scudo e dicevano non vuol dire british petroleum ma vedete il cartello là? amo benzina purissima oh caspita furbetti eh l'avevo girato lì di vieto benzina purissima benzina purissima meglio di così? quale ho veramente?